Per contrastare i crescenti episodi di violenza urbana, Pescara diventa operativa la sala di controllo della Polizia Municipale. Occhi elettronici per rendere la città più sicura. All'inaugurazione stamani il sottosegretario agli interni Nicola Molteni. C'era per noi all'evento Alberto Tundo. Alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, il comune di Pescara risponde con un impiego massiccio di tecnologia. È stata infatti inaugurata oggi la sala controllo della Polizia Municipale, al momento la più avanzata d'Italia. Questo è il cervello al quale arriveranno dati e immagini raccolti da 332 telecamere, 170 delle quali ad alta e ultra definizione, potenziate con l'uso di intelligenza artificiale e programmi di autoapprendimento. Una grande opportunità, si investe in sicurezza, quindi c'è un progetto congiunto tra l'amministrazione e il Ministero dell'Interno, 1.400.000 euro di investimento per potenziare vigilanza e controllo del territorio, potenziare la sicurezza urbana e quindi oggi è una giornata positiva per i cittadini di Pescara, per la sicurezza dei pescaresi. Dieci poi le telecamere piazzate ai varchi d'entrata della città. Avremo la possibilità di controllare tutte le macchine che entrano in città, verificare se quelle macchine sono rubate, se hanno l'assicurazione, così come potremo controllare quando le persone butteranno i rifiuti ingombranti oppure faranno atti criminosi, lo facciamo in tempo reale e poi le telecamere hanno un sistema di autoapprendimento, quindi apprendono direttamente quali possano essere le situazioni criminali o dirittuose e segnalano con un alert alla centrale che cosa sta succedendo in quel momento. Resta il tema della privacy e della sicurezza dei dati. Ieri è stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento per la videosorveglianza, un primo passo necessario perché il sogno della sicurezza non diventi un incubo corvegliano.